Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera all'almanacco italiano dal 1762, lunedì 3 febbraio. Ariete, la luna abbraccia Urano nel segno rendendovi propensi ad agire più avventatamente. Datevi una regolata e se necessario tirate il freno a mano. Avrete voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Se potete sul lavoro prendete un giorno di ferie. Toro, con Saturno o Contro cercate di evitare progetti e spese non preventivate. Siete anche disponibili a sacrificare un po' del vostro tempo e danaro. Forse dovreste rassegnarvi in questo periodo a fare le cose più per dovere che per piacere. Gemelli, la luna in Ariete sarà vostra alleata e riuscirà a rasserenare il cielo pieno di nubi. Con l'avanzare della giornata vi sentirete pervasi dalla serenità. Anche Marte depone a vostro favore, regalandovi successi anche isperati nello studio e nel lavoro. Cancro, la luna vi fa boccacce ma con Giove che transita nel segno dopo le tribolazioni passate sia nel lavoro che in amore. State riprendendo a respirare. Finalmente ci sono in vista per voi molteplici gratificazioni meritatissime. Godetevele. Leone, nel portare avanti i vostri programmi non concentrate le energie solo nell'azione, ma chiedetevi il perché dei fatti che state affrontando. Ricordate che niente capita a caso. Anche se non si vede c'è un figlio che unisce il senso delle cose che viviamo. Vergine, la capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando dovete affrontare ostacoli d'avversità sarà invidiabile. Vorrete esercitare fascino sugli altri, ma nello stesso tempo non avrete voglia di mettervi in gioco più di tanto. Nilancia, la luna in opposizione dal segno dell'ariete vi tartassa e l'indecisione e la tristezza potrebbero catapultarvi in situazioni fastidiose. Possibili discussioni in famiglia vi giudicheranno poco ragionevoli. In effetti sarete un po' banderuole. Scorpione, Saturno nel segno vi rende esigenti nei confronti del partner, ma nello stesso tempo ostacola la capacità di donarvi all'altro senza riserve. La vostra situazione affettiva è un po' tormentata, difficile, ma non è forse così che piace a voi? Sagittario, la luna sta con voi insieme ad Urano e Marte, un mix che produrranno a miscela vincente per affrontare e risolvere i problemi lavorativi. La vostra resa professionale aumenterà se deciderete di valorizzare competenze e naturali capacità. Capricorno, anche se siete legati a filo doppio alle vostre abitudini, quando immetterete nella vostra vita uno sprazzo di rinnovamento vi sentirete rinascere. Ricordate che le persone in gamba hanno capacità di affrontare qualsiasi evenienza capiti nella vita. Acquario, giornata che prende quote più accettabili grazie ad una luna ben disposta nei vostri confronti. La vostra energia nasce rafforzata, gli amici vi convinceranno a mettere il naso fuori casa per un dopo cena insieme, vi divertirete un mondo. Pesci, fate sì che la giornata scorra caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito. Si moltiplicheranno le occasioni di contatti umani. Scegliete meglio però le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie. Grazie a tutti.